Sei il primo italiano a vincere l'European Act e gli MTV Awards, come ti senti? Come mi sento? Hai visto quando ti dicono, oddio fai 18 anni? Però non ti cambia niente poi alla fine della vita, no? Cioè tu il giorno dopo sei lo stesso di prima. E quindi ti senti l'euforia di questa grande vittoria e come fosse il traguardo poi della maggiore età. Però stasera arrivai a dormi e ti svegli da mattina e... bello. Senti, ma hai battuto Enrique Iglesias che era il candidato spagnolo? Ma ho battuto, è un parolone, sono anni che... Da mo' che è Enrique Iglesias. E ringrazio chi mi ha votato. Tutti i fan. Prossima tappa quindi? Secondo a Sanremo, primo X Factor. Perché secondo è brutto. Ah, è vero. Brutto proprio. Cioè meglio terzo, terzo è il numero perfetto. E poi primo agli European Music, MTV Music Awards. No, è disco, disco. C'è da rigenerarsi, da cambiare. Collaborazioni pazzesche che sono in programma? Dai, dimmi. Sono in programma, collaborazioni che non vi dirò mai neanche... Non apro l'italiano, scusami. E ora, hasta luego. Ci troviamo qui a Madrid, proprio qui per le strade di Madrid. C'è un palazzo pazzesco che cambia colore. Diventerà la mia casa. E... che dirvi? Grazie per avermi votato e per essere... Fiori d'Europa. No, per avermi votato e per il Best European Act. Io continuo a osservare questa bellissima città e questo bellissimo palazzo. Grazie. Cambia colore. Adesso è biorno. No, bella, bella soddisfazione. Questo disco ci ha dato delle soddisfazioni che sinceramente io non mi aspettavo. Le esperienze che tu passi sicuramente vanno a cambiare qualcosa del tuo essere. Però non le cambiano radicalmente da capire che poi cos'è cambiato. E quindi, mo, fai un po' questo... così... pregno di cose. Sono abbastanza tranquillo perché abbiamo messo già da parte tantissime cose che sono veramente contento che siamo uscite così. L'unica ansia che ha il mio pubblico è di stare insieme e ricondividere, diciamo, tutto presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.